Per una regione collassata 100 giorni sono pochi, ci riserviamo di darvi appuntamento ai primi mille giorni. Così il governatore Nello Musumeci ha inaugurato l'incontro odierno a Palazzo d'Orlean per fare il punto sui primi 100 giorni di vita della Giunta. Lungo l'elenco di interventi realizzati fino ad oggi che il Presidente ha voluto mostrare al fine di placare le polemiche di coloro i quali hanno definito il suo governo lento. Dalla formazione al dissesto idrogeologico, passando per la sanità e i rifiuti, Musumeci ha reso note le somme messe in circolazione pari a 700 milioni di euro complessivi. Nei 100 giorni abbiamo messo in circolazione oltre 700 milioni di euro perché riteniamo che sia importante accelerare la spesa, favorire quella pubblica e quella privata. Abbiamo messo ordine alla masseria perché abbiamo definito l'assetto dirigenziale, abbiamo rivoluzionato i dirigenti generali nel senso che ne abbiamo nominati 16 su 30, non era mai accaduto. Ne abbiamo fatto ruotare 10 su 14, abbiamo un nuovo segretario generale, abbiamo incontrato prefetti, sindaci, rappresentanti della categoria, rappresentanti del mondo delle religioni, i quattro rettori delle università. Posso dire di essere soddisfatto per un governo che ha cominciato la propria esperienza con grande impegno e con grande passione. Ai primi mille giorni, senza fare inutili e sciocche promesse, questa Sicilia potrà guardare al resto del mondo con lo sguardo alto e fiero.